Musica Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal Veneto. Grave incidente stradale la scorsa notte in Veneto. Il bilancio è di una ragazza di 18 anni che ha perso la vita mentre tre ragazzi sono rimasti feriti. È accaduto la scorsa notte a Villorba. I ragazzi tutti amici avevano trascorso la serata insieme. Viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta che è uscita di strada a perdere la vita Carlotta De Rossi. La ragazza sarebbe stata sbalzata all'esterno dell'auto finendo in un fosso dove c'era dell'acqua. Soccorsa dagli amici purtroppo non è sopravvissuta. Sul posto le forze dell'ordine che hanno eseguito i rilievi. Presenti ovviamente le ambulanze che hanno portato soccorso ai feriti. Ridurre i tempi di quarantena per chi ha avuto la terza dose lo stanno chiedendo diversi governatori regionali. Qualora una persona abbia ricevuto la terza dose e venga a contatto con un positivo deve restare in isolamento alcuni giorni. La durata si sta valutando. Attualmente la quarantena per un vaccinato venuto in contatto con un positivo è di sette giorni. Le decisioni anche del CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, potrebbero arrivare quando si avranno dati più conclusivi sulla variante Omicron che in questo momento sta facendo temere scenari peggiori. Intanto è allo studio anche il periodo di quarantena per chi ha completato il ciclo vaccinale di due dosi. Sembra comunque che in questo momento si stia prendendo la strada della cautela perché i numeri sono ancora molto molto elevati. In Italia il bollettino di oggi riporta 30.810 nuovi casi e altri 142 morti. Ma sentiamo i dati con il bollettino del Veneto. Circa 3.000 i casi covid nelle ultime 24 ore in Veneto, 2.816 per la precisione, 24 i morti, 35 i nuovi ricoverati in un giorno. I pazienti negli ospedali veneti per il covid sono 1.213 nei reparti di degenza e 185 sono nei reparti intensivi dove se ne sono aggiunti 13. I numeri sembrano in discesa ma in realtà il dato è questo perché i casi riscontrati sono minori per il calo dei tamponi dovuti ai due giorni di festa. La provincia con più casi in questo momento è Vicenza, seguita da Padova, Venezia e Treviso. Ieri un'automobile con targa belga guidata da un uomo con a bordo due donne e due bambini è rimasta bloccata nella neve lungo la strada provinciale 81, poco prima del passo della Borcola nel comune di Posina. Nonostante il divieto di transito il conducente voleva raggiungere Folgaria ma le condizioni come era previsto lo hanno messo in difficoltà tanto da rimanere bloccato e chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, gli occupanti dell'auto sono stati portati al sicuro e al caldo mentre i vigili del fuoco hanno trainato la macchina fuori dal ghiaccio, un'operazione che non è stata semplice. A Vicenza il sindaco ha firmato un'ordinanza antidegrado per proteggere tre siti della città dove numerosi giovani si fermano a vivaccare e a bere. Interessati al provvedimento il sottoportico e la scalinata del museo civico di Palazzo Chiericati, Ponte San Michele e i portici di Monteberico. Vietato l'utilizzo di skateboard sulla scalinata di accesso e sul sottoportico occupando i gradini, settendosi o sdraiandosi a terra e in particolare a Ponte San Michele è vietato stazionare. Il 10 gennaio 2022 scatta l'obbligo del Super Green Pass per accedere a musei e luoghi di cultura ma anche per palestre, piscine, centri benessere, terme, parchi tematici, sale bingo, scommesse e casino. Lo prevede il disegno di legge che è stato pubblicato e che è entrato in vigore il prima di Natale. Servirà dunque essere vaccinati o guariti dal Covid per accedere a queste attività. Dal 25 dicembre sono tornate obbligatorie in tutta Italia le mascherine all'aperto. Il decreto stabilisce inoltre lo stop anche alle discoteche e alle feste di piazza per poter accedere al cinema. Bisognerà invece indossare la mascherina FFP2 così come a bordo dei mezzi pubblici anche per il trasporto locale. Dal 1 febbraio la durata del Green Pass da vaccino verrà ridotta da 9 a 6 mesi per incentivare le terze dosi. Ma parliamo ancora di Veneto perché ci vuole molta prudenza. Stiamo rischiando di passare al colore arancione. Allora purtroppo con ulteriori limiti quindi ci vuole la prudenza. Sentiamo. Il Veneto è tra le regioni che potrebbero trasformarsi in arancione nelle prossime settimane. Il cambio avviene considerando tre parametri, uno dei quali superato da tempo. Incidenza oltre i 150 casi per 100.000 abitanti, occupazione delle terapie intensive oltre il 20% e tasso dei ricoveri in area medica oltre il 30%. L'incidenza dei positivi è stata superata da tempo. Per quel che riguarda i ricoveri bisognerà vedere come andranno i prossimi giorni. Il limite da non superare è quello del 30% dell'occupazione e in questo momento siamo al 17%. Il presidente della regione Veneto ha invitato tutti a fare il vaccino e a essere prudenti. A Vicenza la Guardia di Finanza ha arrestato tre giovani italiani residenti in città per detenzione di droga ai fini di spaccio. È l'esito di un'operazione che ha controllato questa situazione che appariva abbastanza sospetta in città. Le indagini delle fiamme gialle hanno portato alla luce questo traffico di stupefacenti. L'operazione ha portato al sequestro di un totale di 2,8 chili circa di marijuana e 500 grammi di hashish. Nelle montagne vicino a Pordenone paura per un uomo di 35 anni di Mirano della provincia di Venezia disperso in montagna. Era uscito per un'escursione il giorno di Natale e poi di lui si erano perse le tracce. Sono stati momenti di grande tensione per familiari e amici ma per fortuna questa vicenda ha avuto un lieto fine. L'uomo che non era riuscito a rientrare in tempo e non riusciva a chiamare per assenza di segnale e non poteva intraprendere il percorso di ritorno sarebbe stato impossibile. Ha trascorso la notte in un bivacco e questa mattina è riuscito a rientrare da solo. Erano già attive tutte le squadre di soccorso che entrano in azione in questi casi. Rogo in un'azienda questa mattina in provincia di Venezia. In poco tempo i vigili del fuoco sono fortunatamente riusciti ad avere ragione sul rogo. Guardate le immagini. Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato lunedì nella tarda mattinata all'ex Alcoa dove oggi si trova la Slim Fusina Rolling. Le fiamme sono divampate improvvisamente e in maniera violenta in via dell'elettronica a Malcontenta in provincia di Venezia. Sul posto sono arrivate numerose squadre dei vigili del fuoco che hanno prontamente avviato le operazioni di spegnimento dell'incendio. In poco tempo sono riusciti ad avere sotto controllo il rogo e in un'ora e 45 avevano completamente spento l'incendio. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i tecnici dell'ARPAV che hanno eseguito dei prelievi. Secondo i tecnici non sussistono pericoli per la popolazione. Nell'incendio nessuna persona è rimasta coinvolta. Ed ora uno sguardo alle previsioni del tempo. Fino a dopodomani deboli impulsi perturbati interesseranno il Mediterraneo portando sulla regione estesa nuvolosità e qualche debole precipitazione. Da giovedì l'ingresso e progressivo rafforzamento di un promontorio anticiclonico sull'Europa centro-occidentale porterà condizioni di tempo stabile sulla regione in prevalenza soleggiato. In montagna con estese foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde. Le temperature diverranno via via più alte in quota fino a raggiungere valori che vengono definiti miti per il periodo. È tutto per questa edizione del nostro spazio informativo. Tra poco ancora notizia a cura di Talpress24. Vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.